Il calendario dell'atletica leggera regionale riserva domenica prossima a Sulmona la prima prova di qualificazione dei campionati italiani invernali di Lanci con gare di giavellotto, disco e martello. Le gare si svolgeranno all'impianto Nicola Serafini in località incoronata. L'organizzazione è curata dall'amatori Serafini Sulmona. La manifestazione rientra tra gli appuntamenti che in questo momento caratterizzano l'attività federale nel mondo dell'atletica. Si prevede una partecipazione abbastanza numerosa in quanto si tratta di una gara open aperta non solo agli atleti abruzzesi ma anche a quelli delle altre regioni. La gara di Sulmona è molto importante in quanto consentirà ai meglio classificati l'ingresso alla finale nazionale in programma a Lucca il 21 e il 22 febbraio. Alla finale accederanno i migliori 10 atleti della gradatoria italiana assoluta stagionale, più i primi due della gradatoria 2014, i migliori otto della gradatoria promesse 2015, i primi otto della gradatoria stagionale giovanile che comprende le categorie allievi e juniores. Si incomincerà domenica alle 10 con il martello maschile e femminile, alle 11 il disco maschile e femminile per finire a mezzogiorno con il giavellotto sia maschile che femminile. L'evento che la federazione ha voluto a Sulmona è solo una parte del pacchetto stagionale che avrà come punta conclusiva i campionati italiani cadetti e cadette in programma l'11 e il 12 ottobre. Gli ultimi risultati di Davide di Cesare e Ludovica di Cesare ottenuti al Palasporte di Ancona domenica scorsa potrebbero far pensare che l'amatori atletica Serafini guarda solo all'attività agonistica. Invece è giusto sottolineare, si legge in una nota della società, che l'impegno è aperto a 360 gradi senza ovviamente trascurare l'organizzazione delle gare grazie all'evidente bellezza che presenta l'impianto di atletica del complesso sportivo Nicola Serafini.